Non bastano gli 11.000 euro al mese, medi di stipendio, le scrittele passe via carda go go, i gettoni di presenza, le assenze non contate se sostituiti, il rimborso per i rapporti con l'elettorato. La vita dei consiglieri regionali ora si arricchisce di un altro sfizioso tassello, l'iPad, gratis, naturalmente. Succede come sempre in via Capruzzi, dove qualche giorno fa una determina ha stabilito che tutti e 70 i consiglieri regionali riceferanno questo simpatico cadò di fondamentale importanza. Ma spieghiamo meglio cosa è. L'iPad è l'ultimo nato in casa Apple, una piattaforma portatile di elevata tecnologia che consente la visione di film, fotografie, lettura di ibook, navigazione sul web e ancora consultazione del calendario, gestione e scrittura della posta elettronica e l'impaginazione di un documento. Prezzo dell'aggeggio dai 500 ai 700 euro, in base alle caratteristiche. Dando sfogo al malpensiero, immaginiamo che si sia scelta la versione full optional. Certo, chi non è proprio avvezzo alla tecnologia avanzata può optare per un normale pc portatile, mica rinunciare del tutto al privilegio. Ora, il punto è, se ne poteva fare a meno? Ogni consigliere ha il proprio ufficio, con annessi computer, stampanti e tutto ciò che serve per esercitare il proprio lavoro. Certo, molte di queste porte in settimana sono chiuse, le scrivanie rimangono impolverate. Un breve calcolo, però, a questo punto è d'obbligo. Ponendo anche che si scelga la versione base, quella da 500 euro, si spende per i 70 consiglieri la bellezza di 35.000 euro, che diventano 52.500, scegliendo la versione full optional. Una bella spesa. Adesso attendiamo al varco il prossimo gadget.